Cenere, terreno scuro e frammenti di legno arso. Questo è tutto ciò che resta di una delle panchine che abbelliscono la zona pedonale del quartiere Zeist a Cremona. La banda di piromani ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I residenti che passeggiano con i propri animali o che si allenano all'aria aperta assistono ogni giorno a spettacoli spiacevoli. Perché la banda di piromani per divertimento, dopo le 22 e lontani da occhi indiscreti, rompe cestini, cartelli dedicati ai posteggi per le persone con disabilità. Non è novità che bruciano, che bevano alcolici e che buttino per terra pezzi di vetro. Quei fatti qua accadono per... c'è gente che ha bisogno di sfogarsi, visto quello che si è passato e che si sta passando ancora. Probabilmente sarà dovuto a quello, perché altrimenti una spiegazione logica uno non riesce a darsela. Vediamo che la rimettono e vorrebbe più controllo, specialmente la sera. Qua c'era un cartello che è stato rimosso dall'oratorio che abbiamo noi all'interno del garage. Controlli non so che bene possano portare, però forse un'educazione diversa, questo sì, ma sono passaggi più grandi. I residenti inoltre segnalano bivacchi, spazzature abbandonate e mai raccolta, neanche dagli operatori ecologici. Bruciano, sporcano, la sporcezza non parliamone. Si fermano là a bivaccare dei ragazzi con bottiglie, carte e quant'altro. Come pure dei contenitori che nei turbini passano ogni tanto e lasciano anche i contenitori pieni. Aiutiamoci a tenere pulito il parco. Chi lascia a terra l'immondizia si vergogni, scrivono. Mentre qualcuno abbandona l'ennesimo sacco, quasi fosse una sfida.